Capitolo 4 Numerosi testimoni presenti al ballo in maschera di ieri sera riferiscono di aver notato Benedict Bridgerton in compagnia di una damigella sconosciuta che indossava un vestito color argento. Nonostante gli sforzi, l'autore di queste note non è assolutamente in grado di svelare l'identità della misteriosa fanciulla. E se non ci riesce il sottoscritto, deve trattarsi di un segreto custodito molto gelosamente. Dalle cronache mondane di Lady Whistledown, 7 giugno 1815 Se n'era andata. Benedict scrutò a Grouvenor Square dal marciapiede davanti a Bridgerton House. La piazza era piena di carrozze in sosta. Si domandò se lei era a bordo di una di quelle o di una delle tre che aveva appena visto allontanarsi. In un caso o nell'altro, l'aveva persa di vista. Avrebbe voluto strozzare Lady Danbury che gli aveva sbarrato la strada con il suo bastone, cianciando qualcosa a proposito dei costumi degli invitati. Quando era riuscito a liberarsi di quell'importuna, la misteriosa ragazza vestita d'argento era sparita oltre una porta laterale della sala da ballo. E Benedict sapeva che lei non aveva intenzione di rivederlo. Imprecò a mezza voce. Con nessuna delle ragazze che sua madre gli aveva presentato, ed erano fin troppe, aveva mai provato una sintonia così intensa e sconvolgente come con la sconosciuta in argento. Dal momento in cui l'aveva vista, anzi, prima ancora di vederla, appena aveva avvertito la sua presenza nella sala, l'atmosfera era cambiata, come se fosse carica d'elettricità, e si era subito sentito teso, eccitato e vivo, come non gli capitava più da anni, pieno di passione e di sogni. E ora, invece, Benedict imprecò di nuovo, stavolta con una nota di rammarico. Non era nemmeno in grado di dire di che colore fossero esattamente i suoi occhi. Non marrone, di questo almeno era certo, ma nella luce fioca delle candele non era riuscito a capire se erano azzurri o verdi, o addirittura grigi. E per qualche motivo, questo fatto era causa di un acuto rimpianto che si manifestava con un senso di vuoto allo stomaco. Si dice che gli occhi siano la finestra dell'anima. Se era riuscito davvero a trovare la donna dei suoi sogni, quella con cui poteva immaginare di avere una famiglia e un futuro, allora, santo cielo, doveva almeno sapere di che colore erano i suoi occhi. Non sarebbe stato facile rintracciarla. Non era mai facile trovare qualcuno che non voleva farsi trovare. E lei aveva fatto capire chiaramente che intendeva mantenere il segreto sulla propria identità. Gli indizi da cui poteva partire erano ben miseri. Solo qualche commento sugli articoli di cronaca mondana di Lady Whistledown e... Benedict guardò il guanto che stringeva ancora nella mano. Se n'era dimenticato mentre inseguiva la sconosciuta attraverso la sala da ballo. L'annusò e rimase sorpreso constatando che non sapeva d'acqua di rose e di sapone come la ragazza del mistero. Sapeva piuttosto leggermente di muffa come se fosse rimasto per molto tempo dentro qualche baule in un solaio. Strano! Perché usare un vecchio guanto? Se lo rigirò in mano come se muoverlo potesse servire a far riapparire per magia la ragazza che lo aveva indossato. E fu allora che notò il monogramma ricamato sull'orlo. SLG le iniziali di un nome il nome della ragazza e uno stemma nobiliare uno stemma che non aveva mai visto prima. Ma sua madre era sicuramente in grado di riconoscerlo e quando avesse saputo a quale famiglia apparteneva lo stemma sarebbe stato facile capire a chi si riferivano le iniziali SLG. Il cuore di Benedict si aprì alla speranza l'avrebbe ritrovata l'avrebbe ritrovata e l'avrebbe fatta sua. Nel giro di mezz'ora Sophie tornò alla solita vita spariti il vestito da sera gli orecchini scintillanti e l'acconciatura elaborata le scarpe ricamate vennero riposte nell'armadio di Araminta e il rossetto che la cameriera le aveva messo sulle labbra era di nuovo sulla toletta di Rosamund. Sophie spese anche 5 minuti per massaggiarsi la pelle del viso e rimuovere i segni lasciati dalla maschera. il suo aspetto ridiventò quello che aveva di solito quando andava a letto quello di una ragazza senza pretese acqua e sapone con i capelli raccolti in una treccia e i piedi infilati in un paio di calzettoni di lana per difendersi dal freddo della notte sembrava di nuovo quel che era in realtà una semplice cameriera erano sparite anche le tracce della leggiadra principessa che era stata per il breve spazio di una sera e quel che era peggio era sparito anche il suo principe azzurro benedict bridgerton era veramente l'uomo pieno di fascino di cui aveva letto sul whistle down bello, forte, affabile era l'incarnazione stessa dei sogni di qualsiasi ragazza dei suoi sogni un uomo così non poteva sposare la figlia illegittima di un conte e meno che mai una cameriera ma per una sera era stato suo doveva accontentarsi prese un cagnolino di pezza che aveva sin da quando era bambina era un ricordo di tempi migliori di solito lo teneva sopra la cassettiera ma per qualche motivo in quel momento voleva averlo più vicino si mise a letto stringendo il cagnolino sotto un braccio e si raggomitolò sotto le coperte poi serrò le palpebre mordendosi il labbro inferiore mentre le lacrime bagnavano il cuscino fu una lunga, lunga notte conoscete questo stemma? seduto accanto alla madre nel suo salottino rivestito in modo molto femminile con stoffe rosa e crema benedict bridgerton le stava mostrando l'unico indizio in suo possesso violet prese il guanto color argento ed esaminò lo stemma le bastò un istante penwood rispose con sicurezza il conte di penwood violet annui e la g dovrebbe stare per gunningworth il conte è morto senza un erede sei o sette anni fa se ricordo bene il titolo è andato a un lontano cugino e tu sei venuto meno all'impegno di ballare con penelope federinton ieri sera ti è andata bene che tuo fratello si è sacrificato al tuo posto benedict ignorò il rimprovero era divorato dall'impazienza ma si controllò e allora chi è slg chiese perché ti interessa tanto domandò a sua volta violet guardandolo sospettosa conoscendovi immagino che non risponderete alla mia domanda se prima non avrò risposto io alla vostra gemette benedict infatti benedict alzò gli occhi al cielo a chi appartiene questo guanto benedict sarà meglio che tu mi dica subito tutto tanto lo sai ci arriverai lo stesso e ti risparmierai un imbarazzo se parlerai spontaneamente benedict sospirò non aveva nessuna voglia di parlare di certe cose con sua madre ma non poteva evitarlo se voleva ritrovare la misteriosa fanciulla che aveva conquistato il suo cuore ho conosciuto una persona ieri sera al ballo in maschera disse allora violet batte le mani compiaciuta davvero? è per questo che ho trascurato di ballare con Penelope violet parve sul punto di svenire per l'emozione chi è? una delle figlie di Penwood? aggrottò le sopracciglia no è impossibile lui non ha avuto figli solo due figliastre si interruppe di nuovo pensosa anche se devo dire avendo conosciuto quelle due ragazze beh che cosa? violet tardò a rispondere cercando le parole più adatte beh non avrei mai immaginato che ti saresti interessato a una di loro tutto qui se però aggiunse illuminandosi di nuovo in viso inviterò al più presto la contessa a prendere un tè qui da noi è il meno che si possa fare benedict stava per replicare ma si interruppe vedendo sua madre rabbuiarsi di nuovo che c'è? domandò oh niente disse violet è solo che insomma sputate il rospo mamma lei accennò un sorriso imbarazzato è solo che non ho mai avuto molta simpatia per la contessa l'ho sempre trovata piuttosto fredda e ambiziosa alcuni descrivono anche voi come una persona ambiziosa mamma puntualizzò benedict violet fece una smorfia contrariata certamente nutro la grande ambizione di vedere i miei figli felicemente accasati ma non sarei mai capace di sposare mia figlia a un settantenne solo perché è un duca la contessa ha fatto sul serio qualcosa del genere chiese benedict cercando vanamente tra i suoi ricordi qualche duca settantenne che si fosse sposato di recente no ammise violet ma ne sarebbe capace io non sono così benedict trattenne un sorriso mentre sua madre indicava a se stessa con un certo sussiego accetterei perfino che i miei figli sposassero una spiantata pur di vederli felici benedict la guardò con aria scettica certo anche se spiantata dovrebbe essere una brava ragazza di sani principi spiegò violet non una fannullona o un'arrampicatrice sociale benedict attossicchiò discretamente coprendosi la bocca con un fazzoletto per dissimulare la sua voglia di ridere comunque non devi preoccuparti di me disse violet dandogli un buffetto sul braccio oh sì invece si affrettò a dire lui sua madre sorrise metterò da parte la mia antipatia per la contessa se sei interessato a una delle sue figlie lo guardò speranzosa è così? ce n'è una che ti sta a cuore? non lo so confessò benedict non so nemmeno come si chiama l'unico indizio che ho sulla sua identità è questo guanto non oso nemmeno chiederti come te lo sei procurato è stata una cosa del tutto innocente vi assicuro l'espressione di violet fu a dir poco scettica ho messo al mondo troppi figli per credere alle tue parole mormorò allora a chi corrispondono le iniziali? tornò a chiedere benedict violet esaminò di nuovo il guanto è vecchiotto disse benedict annui l'ho pensato anch'io sapeva un po' di muffa come se fosse rimasto parecchio tempo dentro un baule e le cuciture sono un po' logore non so a cosa corrisponda la L ma la S dovrebbe essere quella di Sara la madre del defunto conte mi sembra plausibile considerando l'età del guanto benedict guardò il guanto che sua madre aveva in mano e disse poiché sono ragionevolmente certo di non avere parlato con un fantasma ieri sera chi poteva essere la ragazza che l'indossava secondo voi? non ne ho idea un membro della famiglia Gunningworth immagino sapete dove abitano? a Penwood House rispose Violet il nuovo conte non le ha ancora sfrattate per il momento per quello che mi risulta non so perché forse teme che vogliano vivere con lui se andasse a stare lì credo che lui sia rimasto in campagna questa stagione non l'ho mai conosciuto di persona sapete per caso dov'è Penwood House? certo che lo so a pochi isolati da qui Violet spiegò a suo figlio la strada e Benedict si diresse impaziente verso l'uscita oh Benedict lo richiamò lei con un sorriso divertito sì? disse Benedict fermandosi sulla soglia della stanza le figlie della contessa si chiamano Rosa Mundeposi se ti interessa saperlo Rosa Mundeposi nessuno dei due nomi gli sembrava appropriato per la misteriosa fanciulla che aveva conosciuto ma non sempre i nomi lo erano poteva darsi benissimo che qualcuno giudicasse poco adatto a lui il nome Benedict girò sui tacchi e cercò di nuovo di guadagnare l'uscita ma sua madre lo fermò di nuovo esclamando ancora oh Benedict sì mamma rispose lui alzando gli occhi al cielo con aria esasperata mi dirai com'è andata a finire vero? certo sei un gran bugiardo disse lei con un sorriso però ti perdono vederti innamorato è così bello non sono puoi dire quello che vuoi fece lei con un gesto distaccato della mano Benedict decise che non valeva la pena rispondere e corse fuori Sophie! Sophie sollevò di scatto la testa sembrava anche più infuriata del solito se possibile Aramenta d'altronde era sempre infuriata quando trattava con lei Sophie! insomma dov'è quell'infernale ragazza? l'infernale ragazza è qui mormorò Sophie posando il cucchiaio d'argento che stava lucidando come cameriera personale di Aramenta Rosa Mondeposi non avrebbe dovuto lucidare anche l'argenteria ma Aramenta non era contenta se non la vedeva sfacchinare dalla mattina alla sera sono qui disse ancora alzandosi e uscendo in corridoio chissà cosa aveva trovato Aramenta stavolta che non andava bene sì signora che significa questo? disse Aramenta tendendo verso di lei qualcosa Sophie guardò meglio e si sentì mancare Aramenta aveva in mano le scarpe che lei le aveva sottratto la sera prima non... non so cosa vogliate dire balbettò queste scarpe sono nuovissime mai messe Sophie rimase muta un istante poi si riscosse rendendosi conto che Aramenta aspettava da lei una risposta qual è il problema? guarda qui! urlò Aramenta indicando il tacco di una scarpa è graffiato come può essere accaduto io certo non lo so signora disse Sophie forse non c'è forse che tenga qualcuno si è infilato le mie scarpe vi assicuro che non le ha messe nessuno rispose Sophie meravigliandosi di come riusciva a restare fredda sappiamo tutti quanto tenete alle vostre scarpe Aramenta la squadrò con espressione sospettosa stai facendo del sarcasmo? Sophie compiaciuta per come le stava tenendo testa mentì ancora no certo che no volevo solo dire che avete molta cura per le vostre scarpe e fate bene perché in questo modo durano più a lungo Aramenta non replicò e allora lei aggiunse così non dovete comprarne troppe paia il che era ovviamente del tutto ridicolo considerando il numero incredibile di scarpe che Aramenta aveva nel suo spogliatoio è colpa tua ringhiò Aramenta per la contessa qualsiasi cosa accadesse era sempre colpa di Sophie ma stavolta aveva ragione deglutendo a fatica per l'emozione Sophie rispose cosa vorreste che facessi signora per questo problema? voglio sapere chi si è messo le mie scarpe forse le avete calpestate accidentalmente entrando nello spogliatoio io non faccio niente accidentalmente si bilò Sophie convenne dentro di sé che era vero la contessa faceva tutto di proposito parlerò con le cameriere disse forse una di loro sa qualcosa le cameriere sono un branco di idiote rispose Aramenta non sanno niente di niente posso provare a pulirle per eliminare quel segno i tacchi sono rivestiti di seta se trovi il modo di pulirli ti ammetteranno d'autorità nel consesso reale degli esperti di materiali tessili Sophie avrebbe voluto chiederle se esisteva davvero un simile consesso ma la matrigna non aveva un grande senso dell'umorismo nemmeno quando era di buon umore stuzzicarla adesso poteva essere davvero pericoloso potrei cercare di fare in modo che il segno si veda il meno possibile continuando a strofinare e spazzolare fallo fallo disse Aramenta e già che ci sei oh santo cielo quando se ne usciva con l'espressione già che ci sei non c'era da aspettarsi nulla di buono pulisci anche tutte le altre tutte gemette Sophie dovevano essere non meno di 80 paia tutte e già che ci sei ancora contessa Aramenta lasciò in sospeso la lista di incombenze per Sophie per sentire cosa aveva da dire il maggiordomo c'è qui un signore che vorrebbe parlarle contessa fece il maggiordomo porgendole un biglietto da visita Aramenta lo prese e lo lesse oh esclamò sorpresa e compiaciuta quindi rivolta al maggiordomo ordinò te e i biscotti la migliore argenteria presto il maggiordomo si affrettò a ubbidire mentre Sophie guardava Aramenta con un'espressione di manifesta curiosità posso essere d'aiuto? domandò la matrigna parve di scuotersi come se si fosse dimenticata per un momento della sua presenza no ho troppo da fare per perdere altro tempo con te vai subito di sopra e dopo una pausa aggiunse che ci facevi qui? Sophie indicò la sala da pranzo da dove era appena uscita mi avevate chiesto di lucidare ti ho chiesto di pulire le mie scarpe sbraitò va bene? disse Sophie perplessa il comportamento di Aramenta le parve molto strano metto via subito Sophie si affrettò verso le scale che portavano al piano di sopra aspetta lei si girò sì? Aramenta stirò le labbra in una smorfia poco bella da vedersi assicurati che Rosamond e Posi abbiano i capelli perfettamente a posto certo poi di a Rosamond di chiuderti a chiave nel mio spogliatoio Sophie la guardò in credula voleva davvero che chiedesse lei stessa di farsi chiudere a chiave nello spogliatoio mi hai capito? Sophie rimase come paralizzata certe pretese erano davvero eccessive Aramenta le si mise davanti con fare minaccioso non hai risposto? si bilò mi hai capito? lei annui debolmente l'avversione viscerale di Aramenta nei suoi confronti diventava di giorno in giorno più manifesta perché mi tenete ancora qui con voi? chiese quasi senza rendersene conto perché mi sei utile? rispose in tono cupo la matrigna Sophie la seguì con lo sguardo mentre usciva dalla stanza poi salì di corsa alle scale le acconciature di Rosamond e Posy le parvero già a posto allora con un sospiro si rivolse a Posy e le disse chiudimi nello spogliatoio per favore Posy la fissò sorpresa cosa? tua madre mi ha detto di chiederlo a Rosamond ma non ce la faccio Posy lanciò un'occhiata incuriosita verso lo spogliatoio posso sapere perché? vuole che pulisca le sue scarpe Posy era manifestamente imbarazzata mi dispiace disse anche a me sospirò Sophie anche a me